Tucano presenta Youngster per tablet pc 7 e 10 pollici ideale e comoda custodia con zip per il tuo tablet stand up system con due posizioni di utilizzo ottimo per scrivere perfetto per la visione pratico panno in microfibra per la pulizia dello schermo correlativa tasca e frontale per gli accessori in tre eleganti colori Tucano Italian Design